connetto live e mi trucco con voi adesso ci penso adesso vediamo se faccio in tempo faccio sapere può essere una buona idea che dite grazie grazie bene anche la mia giornata è finita ho messo il letto mandocs oggi è un pochino più tardi perché ovviamente era il suo compleanno allora ho voluto stare in piedi un pochino di più ora mi lavo tutta mi metto il pigiama e vado a letto anch'io però volevo ricordarvi che domani ci alleniamo alle 17.30 facciamo glutei e addominali mi pare e poi venerdì quindi facciamo due giorni di fila facciamo core e braccia sempre alle 17.30 quindi mi raccomando segnatelo io adesso vi metto un bel countdown così ve lo ricordate a domani e buonanotte e la radio c'è anche un toro e la radio c'è anche un toro e il toro la mucca mo l'agnello be la cabra me il cane babao e il gatto mia e il piccione e il tacchino blu 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 e il gallo e la gallina e il cucino e il gatto